appassionate e appassionate benvenuti all'imbarco questo non è un corso tradizionale ma si basa sulla tecnica dello storytelling game una metodologia appassionante e coinvolgente simuleremo un processo reale di apprendimento in e-learning che si intitola le mie passioni le passioni di ciascuno mettono tutti sullo stesso piano le passioni vi liberano dalle condizioni quotidiane favoriscono l'ispirazione reciproca attribuiscono al processo di apprendimento anche un valore ludico e ci permettono di avere un corso più omogeneo inoltre la passione appassiona per definizione e ci consente di lanciare delle sfide perciò preparatevi all'imbarco posizionatevi sulla mappa rispondete al sondaggio leggete e sottoscrivete le regole di ingaggio sarete divisi in tre gruppi in base alle vostre passioni e ogni gruppo sarà guidato da una musa calliope erato urania quindi pronti a partire dal monte l'icona sede delle muse per raggiungere delfi dove clio musa della fama e della storia vi aspetta per consacrarvi e la vostra passione diventerà arte il tragitto è breve ma il viaggio è complicato e pieno di insidie Atropo cercherà di impedire questo cammino perché ha riservato per voi un altro destino dunque buon imbarco a tutte e a tutti è la magia da Adobe Surround con gli effetti e tecniche in coloro fra lezioni online, attività in piattaforma e imprevisti giochi e compiti si delinea la sfida in questo contesto apprendrete le tecniche più creative, efficaci e meno istituzionali dell'e-learning e il corso inoltre è ricco di contenuti pedagogici prendete posto, portate anche i bambini lo spettacolo è gratuito e adatto a tutti